Un corso d'acqua che si offre generosamente alle piccole o grandi imbarcazioni che vogliono attraversarlo garantendo punti di visita alternativi e affascinanti. E' questa una delle particolarità del Quebec, la provincia canadese che grazie alla ricchezza del fiume San Lorenzo è in grado di regalare un'esperienza a 360 gradi agli amanti del viaggiare lento. Guidati dallo chabordio delle onde è possibile entrare in contatto con la natura unica e incontaminata di questo territorio.